Muy buenos dias model bentonate sul mio canale oggi parliamo di rosario che negli ultimi anni negli ultimi tre anni ha preso quasi 30 chili e vuole qualche consiglio per la sua insulino resistenza io sono luca veronese esperto in strategie bruciagrassi e metabolismo lento e in questo canale parliamo proprio di questo quindi lascia un like iscriviti o condividi questo video con qualcuno che potrebbe essere sovrappeso avere problemi di prediabete di insulino resistenza allora il nostro amico rosario dice salve guardando i suoi i suoi video su tiktok non apro mai tiktok però pubblichiamo i video mi sono incuriosito tantissimo purtroppo anch'io soffro danni di insulino resistenza e mi creda non so più che cosa fare a rosario dammi del tu che tanto siamo siamo giovani da quello che vedo e da tre anni ho preso quasi 30 chili allora sicuramente bisogna far qualcosa e quindi bene che ci sia un'intenzione da parte tua di fare qualcosa perché molte volte non c'è al giorno d'oggi nella società di oggi viene dato come come il positivity l'accettare tutto quindi bene che in realtà stai ritrovando e ricercando la tua natura al tuo vero benessere che non è certo accettare una condizione che non ti fa stare bene ok quindi ora voglio darti dei consigli in modo che tu possa risolvere questo problema l'insulino resistenza è semplicemente il corpo che inizia a rifiutarsi di rispondere a tutte le chiamate a tutte le segnalazioni all'eccesso di insulina che l'insulina fa nei confronti della cellula inizia a saturare i recettori e la cellula non risponde più quindi la persona si trova stanca si trova con sovrappeso e andiamo un attimo alla lavagna voglio spiegarti perché succede questo il sovrappeso l'obesità hanno tutte molto a che vedere e anzi come causa hanno un eccesso di zuccheri un eccesso di carboidrati che mi scatenano un eccesso di insulina questo è esattamente il motivo dell'obesità del sovrappeso lo ripeto un eccesso di zuccheri che causano un eccesso di insulina mi danno sovrappeso e obesità e non solo però questo sono il tema principale quindi se questo è il problema tu puoi fare una verifica iniziale per capire subito se siamo totalmente fuori strada con l'alimentazione e ti dico già che le diete non sono la soluzione perché le diete del giorno d'oggi ci dicono conta le calorie mangia 2000 calorie un po di tutto non togliere la pasta tutte queste cose qua e sono la formula per continuare ad andare verso il diabete basta guardarsi intorno persone che magari hanno questo problema possono confermare le alimentazioni che vengono date non sono per non tengono per nulla in considerazione quello che dico in questo video numero 28 che imparare a misurarsi la glicemia quindi il primo punto è che ti prendi un glucometro o vai in farmacia o ti compri un glucometro ma se sei in questa condizione questo diventerà un tuo amico di viaggio vedi al mattino a digiuno il tuo valore ovviamente dovrebbe essere inferiore a 99 ma un valore ottimale di una persona deve essere 85 o meno quindi il glucometro è importante e nella tua vita in qualsiasi momento della giornata prima o dopo il pasto dovrà andare da un minimo di 70 a un massimo di 130 e non andare mai oltre questo range probabilmente se sei in questa situazione andrà oltre questo range e al digiuno molto probabilmente sarà alto ora questa è quindi la prima cosa se questo succede la prima cioè la seconda cosa da fare è applicare la libertà alimentare la libertà alimentare è un'alimentazione libera da grammature libera da conteggi calorici libera dalla ripartizione dei macro libera che però prevede un elenco di alimenti che sono gli alimenti più idonei alla nostra specie alla nostra evoluzione secondo natura appunto e secondo natura i carboidrati sono pochi sono molto pochi e all'inizio saranno presi da frutta poca e verdura per frutta se sei in questa condizione beh prima di tutto fare un periodo solo ad alimenti di tipo a questa guida è gratuita la trovi su modelsoups.it risorse gratuite la puoi scaricare è una guida agli alimenti di tipo a che sono amici del dimagrimento e alimenti di tipo n che sono nemici del dimagrimento gli alimenti n vanno usati in piccola parte ma nel tuo caso ti consiglio di partire con solo alimenti di tipo a nelle quantità che vuoi a sazietà poi ti dirò ti dirò di più quindi questo è sicuramente il primo passo togliere tutti i cereali toglierli e non rintrodurli mai più i latticini legumi tutti i cibi industriali tutti i cibi raffinati tutto quello che c'è dentro un supermercato generalmente non va bene quindi alimentazione secondo natura prevede più che altro di fare il tuo network di contadini prenderti la verdura prenderti la carne prenderti le uova prenderti il pesce e la poca frutta inizialmente frutti di bosco eccetera poi ci sarà qui ci sarà molto probabilmente forse necessario rompere la dipendenza da zuccheri rompere la dipendenza molto probabilmente sei dipendente dagli zuccheri sicuramente anche perché avere questo quadro con un'insulina sempre alta tu hai sempre fame quindi noi abbiamo un protocollo per rompere la dipendenza da zuccheri che dura due giorni fondamentalmente a base di uova carne pesce niente più tanta idratazione e un supplemento che si chiama zero fame questo supplemento ti spegne il desiderio della fame e ti spegne il senso di fame quindi ti aiuta e all'inizio direi che è quasi necessario perché hai messo su 30 chili allora la formula l'ho spiegata tante volte questa è una persona quando c'è un eccesso di carboidrati zuccheri di qualsiasi forma pasta non pasta riso avena tutto quello frutta tutto quello che vogliamo quando c'è un eccesso di carboidrati c'è quindi un eccesso di insulina e fin tanto che ho l'insulina alta il dimagrimento me lo scordo con l'insulina alta ho fame ma soprattutto con questo più questo ho grasso questa è la formula di come si ingrassa punto ma che cosa succede succede che a un certo punto e molto probabilmente avrai poche energie ti sentirei stanco ti sentirei sempre stanco ebbene sì perché in questo caso c'è anche un metabolismo lento un metabolismo che è rallentato proprio perché tutti questi zuccheri l'insulina fa sì che il glucosio possa entrare nella cellula attraverso i recettori ma quando abbiamo insulino resistenza questo passaggio del glucosio che va dentro la cellula viene meno e però non viene meno il fatto che questi zuccheri vengano presi e messi qua sulla pancia infatti se vogliamo capire se una persona ha insulino resistenza oppure no gli guardiamo la pancia classica persona di 40 50 anni che ormai ne è pieno il mondo lì sfatti poca massa muscolare e sta pancia sta pancia ci sta dicendo non ha niente a che vedere con l'estetica non può proprio l'ultimo dei problemi l'estetica ha a che vedere col suo stato di salute sull'alimentazione che sta facendo sui livelli di insulina che ha sull'eccesso di zuccheri che sta mangiando basta semplicemente guardare le pance quando andate in giro fateci caso andate al mcdonaldate al bar al mattino dove si mangiano cappuccino e breos guardate le pance hanno la pancia? insulino resistenza sono magri ma con la pancia? insulino resistenza sono un po' sovrappeso con la pancia? prediabete o diabete basta che vi guardate intorno quindi che cosa fare? beh prima di tutto non trovarsi in quei posti dove si mangiano le brioche ma soprattutto abbassare il consumo di zuccheri di carboidrati di avena di riso e tutti quanti e altro consiglio appunto questa è abbiamo detto la cellula non permette che questo zucchero entri nella cellula per formare ATP che è la vera energia che ti serve in questo momento ti manca per questo sei stanco quindi in questa situazione con 30 kg di sovrappeso allenarti non ti servirà più di tanto perché non hai nemmeno l'energia per le funzioni primarie è probabile che ci sia deficienza di vitamine perché al giorno d'oggi le persone mangiano male e hanno deficienza di vitamine e minerali vitamina B vitamina D vitamina A deficienza di vitamine perché mangiano cibi troppo raffinati che di vitamine non ne hanno quindi c'è una carenza nutrizionale importante che tra le tante cose mi sovrastimola il sistema nervoso eccitato ma questo è un altro discorso più avanzato quindi abbiamo fatto sempre tra i supplementi etabolic complex che è un mix composto da due capsule di colori differenti perché in una ci sono le vitamine del gruppo B e in una ci sono tutte le altre vitamine e sono ben forti ben cariche perché molto probabilmente c'è una deficienza di vitamine e minerali e quinta cosa metabolic magnesio senza magnesio questi recettori questi recettori sono proprio formati con magnesio il magnesio fa sì attiva la pompa sodio potassio quindi se hai liquidi in eccesso se hai ritenzione di liquidi assumere magnesio nella forma più assorbibile come metabolic ma ti aiuta a buttare giù tutti questi liquidi ma soprattutto attiva la pompa sodio potassio che inizia a buttare fuori sodio e a tirare dentro il potassio che deve stare dentro la cellula quindi la tua energia ricomincia a funzionare bene ok la insulina riesce a compiere il suo lavoro a mettere il glucosio dentro la cellula questo è quanto vediamo se mi sono dimenticato qualcosa no ho detto tutto quindi la cosa più importante per te non sarà l'allenamento sarà partire da il glucometro mi raccomando al mattino a digiuno questo è il tuo voto di condotta se ti stai comportando bene e lo farai per una settimana 10 giorni 15 giorni vedrai che migliorerà cerca di arrivare a un valore inferiore a 90 e poi in realtà va fatto il test anche prima del pasto e due ore dopo il pasto prima del pasto dobbiamo avere un valore più o meno attorno a 90 88 quello che sarà nel tuo caso sarà più alto ma dopo due ore dal pasto deve essere ritornato esattamente dove era se questo non succede ti ritrovi con una glicemia che due ore dal pasto è ancora superiore a 130 o addirittura 200 qui stiamo avendo un alimento aggressore cioè un alimento che ti sta mandando fuori controllo il corpo il tuo corpo reagisce come un se questo alimento appunto fosse un'aggressione e quindi spara il glucosio in alto nel sangue quindi l'insulina ancora di più e quindi non va bene questo alimento che avrai mangiato lo dovrai eliminare ovviamente se mangiamo alimenti come carne pollo uova non succederà non succederà può succedere anche con gli alimenti più che ne so col caffè può succedere quindi dovrai testare comunque ti ho dato una valanga di consigli infine se vuoi fare un test del metabolismo gratuito vai su modelsoups.it fai il test del metabolismo e ti uscirà un risultato con dei consigli io sono Luca Veronese esperto in strategie bruciagrassi e metabolismo lento spero questo video possa esservi stato d'aiuto se è così lascia un like e condividilo con persone che possono avere questo problema noi ci vediamo alla prossima grazie a tutti grazie a tutti